Ok, ragà, sono le tre e un quarto di mattina e siamo da qualche parte nella Francia e c'è la neve. Abbiamo freddo, ciao Vasio, abbiamo freddo e sonno e il viaggio è ancora lungo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saluta Tia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.